La macchina dei controlli è partita già con il varo del decreto regge sulle festività che ha bloccato i capodanni in piazza, ha sospeso le discoteche fino a fine gennaio e ha introdotto diverse normative stringenti per bloccare l'avanzata dei contagi. In previsione anche del capodanno il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo ha riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Al tavolo ci sono anche i rappresentanti dell'azienda regionale di trasporto TUA e delle ferrovie dello Stato. L'appello del prefetto e al buon senso dei cittadini sarebbe impensabile, dice, inviare forze dell'ordine a controllare dovunque per evitare che le semplici scene di fine anno nei locali previste dal decreto con musica di intrattenimento diventino delle feste da ballo vere e proprie. Saranno intensificati i controlli sul trasporto pubblico per strada e nei locali per evitare gli assembramenti. A capodanno verranno effettuati controlli contro i botti di mezzanotte nei comuni che hanno emesso ordinanze per vietarli. Ma già dalla sera di Natale è stata alzata la soglia d'attenzione, ricorda il prefetto, con una decina di persone sanzionate perché sorprese senza Green Pass nei locali e oltre 400 trovate sempre senza Green Pass sui mezzi pubblici.